Atterrato Pazzini alla fine del posto per la passione del tempo Cardiatico Rosso per il difettore a destino E' fatto il ritore in favore dell'Inter e Oggio Che adesso la partita si mette tutta sulla finale della giusta Va a calciare naturalmente Samuel Eto' Eto' contro Giulio Sergio L'Inter ha la possibilità di andare sulla 3-1 La rinforza del Camerunista al piccolo troppo una finta E il tiro la rete! Samuel Eto' 3-1 in favore dell'Inter Eto' e poi la rete! La quarta rete dell'Inter con Tiago Motta Difesa della Roma che ovviamente adesso sbanda paurosamente 4-1 La fase di posizione fratello è a favore della Roma La partita ripetendo è più ampiata L'inclusione e poi la rete